i pacchi sono notevoli eh! sti pacchi sooo... so belliciotti! attenzione eh! chi è? esiena! 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 bellissimo! l'abbiamo trovato già! in che senso nessuno ha beh in che senso? è rimanato di cerchinarlo che è successo? attenzione! attenzione spagnolo! dammelo torres! no peccato peccato torres baby volevo quello nuovo questa cuccia è roba tua clip per te cucita clip per te questa roba tua morimi è roba tua peccato amica il piero dammi e se il pacchetto si di upgrade solo in caso di aprile altrimenti lasciate perdere ragazzi ok un'altra tedesco no philip lam philip lam ragazzi bellissimo o però droppano ragazzi ma davvero i due Bloomberg di si l'hai trovato mamma mia spettacolo devo dire spettacolo signori gulaxi comunque un altro donovan non per qualcosa eh ma l'abbiamo anche trovato eh l'abbiamo anche trovato tra le altre cose eh ragazzi tra le altre cose ma adesso solo donovan yaya sarebbe bello luca vediamo se magari ce l'ho troppo adesso eh o magari lo sculiamo che ne sai magari lo sculiamo eh non so se si apre si è aperto? si è aperto? chi è? no if me l'avevo visto bene peccato me lo deve dare su me lo deve dare no non ci credo non ci voglio credere da non me l'ha troppato niente non me la davo direi bravo eh meritato eh meritato si vede malino qui si vede malino questo è canse non so perché giocatore 85 solo uno solo uno ehi non me lo vuole dare eh non me lo vuole dare tt chi è? Trent Arnold beh da next gen è carino con il lente è carino quest'out è un po' più pesantuccio secondo me ragazzi ma next è carino chi è questo? ah è vero l'attaccante dai dammi un altro un Bloomberg oh no ragazzi anche il Bloomberg il Bloomberg sarebbe il top del top effettivamente eh va benissimo questo pure è una figata questo pure è una figata vediamo no peccato niente non me lo droppa è vero stanno anche i main of the match Marcuzia qui in questo canale eh sì ho aggiornato il contatore è vero non l'ho neanche aggiornato hai ragione dovrei aggiornare il contatore effettivamente non l'ho neanche aggiornato comunque ti devo dire quella sienne con ombra mezzo mi piace eh mezzo mezzo mi gusta eh mi gusta quella sienne con ombra eh ragazzi potrebbe essere una bella hit o no? beh manco male eh manco male manco male aspetta che vado a mettere anche il contatore non è manco brutto comunque eh beh sì Aler del Piero sì ma pure il base ragazzi il base eh niente di che di Alpiero metta allora giocatore 85 e più vamos ai godemos vamos ai godemos dai dammi uno buono come dice no no Lucio è un bel giocatore 4kk per Lucio eh però costa però per il conto che comunque sarà ben raro eh cioè non credo che la trompi così facilmente quindi in teoria in teoria non hai sbagliato secondo me eh potrebbe anche mezzo starci eh potrebbe anche mezzo starci è chiaro che ragazzi caspita Lucio è Lucio eh Lucio è Lucio eh è un grande player un grandissimo giocatore Tarmian a te Tarmian a te darmian a te però tembedilo ah a te